Il 28 aprile l'Ucraina ha ufficialmente notificato al Consiglio d'Europa di voler sospendere parzialmente i suoi obblighi nell'ambito della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. In base alla legge marziale in vigore nel Paese dall'inizio dell'invasione russa nel febbraio del 2022, diversi articoli della Costituzione sono parzialmente sospesi, come consentito dall'articolo 15 della Convenzione. In caso di circostanze eccezionali, uno Stato contraente può infatti derogare all'obbligo di garantire alcuni diritti e libertà tutelati dalla Convenzione. Secondo la legge marziale, la libertà di movimento può essere limitata. Lo Stato ucraino è inoltre legittimato a reclutare i cittadini per rafforzare la difesa del Paese. Le restrizioni sono legate anche alla recente legge sulla coscrizione, approvata in seconda lettura l'11 aprile. In vigore dal 18 maggio prossimo, la nuova legge prevede l'abbassamento dell'età di leva da 27 a 25 anni.